Il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, ha incontrato a Vibo Marina il comandante della Capitaneria di Porto, Massimiliano Pignatale, il direttore della stazione zoologica Anton Don Silvio Greco, che a bordo della motonave da ricerca Vettoria della stazione zoologica, scandalierà i mari calabresi quest'estate alla ricerca di scariche abusivi e di tutti i fattori che inquinano il mare. L'intento, dicono, è quello di restituire ai calabresi un mare pulito. Il presidente Chiuto ha anche precisato di aver emanato un'ordinanza per sostituirmi, dice, ai comuni e alle società di gestione dei depuratori per smaltire in loro vece e in loro danno i fanghi di depurazione. Appena mi sono insediato, ha ricordato, ho accertato come in Puglia si scaricano 300.000 tonnellate di fanghi all'anno e in Calabria, che la metà, se ne depuravano solo 35.000. Per 20 anni non si è fatto nulla in questa regione, difficile ottenere risultati straordinari già da questa stagione, ma mi auguro che nel tratto di mare vibonese i risultati siano apprezzabili. Molti scarichi sono abusivi e scaricano direttamente in mare, ha confermato il presidente. Ci sono anche stabilimenti balneari o frantoi non collettati. I dettagli dell'operazione Mare Pulito sono stati forniti poi da Silvio Greco, che ha invitato il presidente della regione Calabria all'interno della speciale imbarcazione. Quest'estate avremo un mare caraibico, ha annunciato Silvio Greco, un impegno che ha entusiasmato lo stesso Occhiuto. Quest'estate, dice, verrò a fare il bagno a Bivona. E sulla nuova multi-utility per la gestione dei servizi idrici e dei rifiuti, Occhiuto ha ribadito la volontà di andare avanti. Mi sono impegnato a riformare il sistema attraverso un'autority unica, così come fanno nel resto d'Italia, dove le cose funzionano. Le polemiche, dice, non mi spaventano. Vado avanti cercando di fare le riforme che nella nostra regione in tanti anni non sono state fatte.